Un ritorno al sud per il mio prefetto di Salerno in una città che a primo acchitto gli sembra accogliente e gradevole. Una città bella in cui le persone si trovano bene, poi ieri sera sono stato anche a Giffoni ed è stata un'altra full immersion in un altro straordinario momento. È stata una giornata molto ricca, come dicevo stanotte ho dormito veramente con molta soddisfazione perché mi è piaciuta molto la prima giornata. Ma quali saranno le priorità di Francesco Russo? Le priorità sono quelle di lavorare per il territorio insieme in un'ottica di assoluta collaborazione con le amministrazioni locali, ma non solo, con tutti gli enti esponenziali evidentemente del territorio. Collaborazione che io darò e che richiederò evidentemente a tutti nel rispetto delle competenze di ognuno perché noi abbiamo un compito di essere al servizio dei cittadini. Noi dobbiamo realizzare questo obiettivo. Se abbiamo ben chiari questi obiettivi il nostro lavoro diventa più facile ed è più facile quando si lavora in uno spirito di collaborazione. In agenda anche altre emergenze, quella dei rifiuti che si sta coendo in questi giorni, quella del lavoro, ma come detto in primis c'è da assicurare sicurezza e controllo di un territorio vasto, complesso ed etorogeneo nei suoi bisogni. C'è forte fiducia nelle forze di polizia del territorio, l'ho potuto verificare, ci siamo già incontrati, abbiamo già evidentemente individuato, però la prima giornata sono stati momenti quelle che sono un po' le linee di azione che poi svilupperemo nei prossimi mesi. L'attenzione evidentemente a quello che è il controllo del territorio sotto il profilo della criminalità organizzata e non, come ho anche scritto, come dicevo, è evidentemente una delle priorità. Grazie 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 Grazie